I social network ci libereranno dalle vuote parole della politica? Il giornalismo 2.0 ci renderà tutti anchorman? La cultura del remix affosserà il concetto d'arte del XX secolo? Brainrunner, dal 20 al 28 aprile, lo spazio Gerra di Reggio Emilia si trasformerà in un content provider interattivo. Programma di incontri, sperimentazioni, laboratori, performance sul tema internet, riuso multimediale e cultura partecipativa.